Il titolo che Luca Moscatelli ha suggerito per questo incontro, che è l'incontro che conclude questa proposta della Scuola di Consapevolezza, è fare corpo con sorelle e fratelli. Pensavamo di introdurlo in questo modo, dicendo che scegliere di riflettere sul nostro essere e fratelli e sorelle non è soltanto la scelta di un contenuto, è invece la scelta di un paradigma, cioè di un modo di vedere e di fare scelte per la nostra vita personale e collettiva. È vedere e scegliere la molteplicità perché ci sia spazio per tutti e per tutte, è vedere e scegliere occasioni per lavorare e decidere insieme, è vedere e scegliere ciò che abbiamo imparato anche da uomini e donne di culture e fedi diverse, che è una delle anime dello spazio Asmara. Interessante che Papa Francesco nella sua ultima enciclica faccia capire che ogni paradigma abbia bisogno di un'ispirazione e lui cita le sue fonti di ispirazione, tra cui Francesco D'Assisi, e abbia bisogno anche di una aspirazione, cioè di un'attenzione, di un sogno per il nostro lavoro e per la nostra responsabilità. Questa sera allora a trovarci qui, a questa scuola di consapevolezze, diciamo la nostra ispirazione e la nostra aspirazione. Scegliamo come ispirazione ancora una volta il Vangelo e vediamo che cosa accade e vediamo come il Vangelo ispiri appunto la nostra aspirazione a poter credere a relazioni rigenerate tra noi e non solo tra noi. Grazie Luca. Grazie, grazie a voi per questa introduzione. Beh, solo una precisazione. Questo terzo incontro conclude la parte delle consapevolezze che riguarda me. Poi, in realtà, le consapevolezze vanno avanti in maniera molto interessante e molto varia. Vorrei semplicemente riprendere, prima di iniziare, un po' il motivo conduttore di questi tre incontri, che è stato sicuramente il riferimento biblico, evangelico in modo particolare, ma anche, come dicevano i titoli, subito a colpo d'occhio, la messa in risalto, in primo piano, della dimensione del corpo, il corpo del risorto, il corpo del testo, fare corpo con sorelle e fratelli. Questa sottolineatura è stata, ed è, per dire la dimensione incarnata della rivelazione cristiana e, per dire, quindi il suo realismo. Il suo realismo. Cioè, non si tratta di un'idea, meno che mai di un'ideologia, come un povero imbecille ha osato dire di Papa Francesco che la fraternità è la sua ideologia. Ma si tratta proprio di un dato di realtà. Cioè, quello che si vede è che nell'esperienza della fede, fin da subito, chi ha conosciuto Gesù e lo ha seguito, ha fatto un incontro col suo corpo. Ha fatto corpo col testo del racconto della sua vita pubblica e ha fatto corpo con fratelli e sorelle. E questo, diciamo, lo abbiamo sottolineato con tre aspetti, tre dimensioni. La prima dimensione è quella del toccare. Un corpo si tocca. Il realismo della fede si deve poter toccare. Vuol dire che qualche cosa di concreto, come una realtà, deve essere possibile al tocco. Naturalmente questo non vuol dire che la realtà che si tocca o che mi tocca, che mi tocca, che risulta per me toccante, debba essere necessariamente materiale. E tuttavia si deve trattare di un tocco. La seconda dimensione è che questa dimensione corporea chiede, come si vedeva in maniera straordinaria nell'incontro tra Gesù e Tommaso, nel capitolo 20 di Giovanni, chiede di ingaggiare un corpo a corpo. Un corpo a corpo che può essere anche nella figura della lotta, ma che può essere anche nella figura della intimità. La terza dimensione è che quello che restituisce il tocco e il corpo a corpo con Gesù risorto, con il testo, con la comunità dei fratelli e delle sorelle, è che ciascuno dovrebbe ricevere in dono la percezione ancora più forte, più vivida, più reale, semmai è possibile, del suo proprio corpo, che ciascuno è il suo corpo. Cioè, nella misura in cui Gesù, il testo, mi toccano, la comunità mi tocca, mi restituisce a me stesso. Io so di essere toccato. Quindi so di essere, so di essere questo e non altro. E questa appunto è la dimensione, se volete, della personalizzazione della fede. Abbiamo insistito fin dal primo incontro. Una personalizzazione della fede che intanto è necessaria, proprio necessaria per essere autentica, esperienza di fede, in quanto è l'esperienza che ci dice, ci rivela, che ciascuno di noi è unico. E quindi fa questa esperienza a modo suo. Inevitabilmente, a modo suo. E che questo non è un problema, ma una ricchezza. Non è subito un problema, ma una risorsa. Il secondo risvolto è che la rivelazione, anche la rivelazione di Gesù, la rivelazione del Vangelo, la rivelazione biblica, è una rivelazione che si dà in maniera completa soltanto se coinvolge il suo ascoltatore. E lo coinvolge tutto. Come dire, la rivelazione non può dirsi compiutamente senza di me, senza di te, senza di lei, senza di lui. Addirittura si potrebbe forse dire così, la rivelazione ha bisogno di me per dispiegarsi e per continuare nella storia a prendere corpo. Certo, questa rivelazione è la rivelazione di una salvezza, di una salvezza che vuole essere per tutti. Ma appunto perché è per tutti, questa rivelazione anela ad essere detta, narrata con tutti. Per tutti, con tutti. e quindi questo è un po' il tema, se volete, di questa sera, e cioè la dimensione di un corpo che è plurale, plurale per definizione, che è un insieme di corpi, un insieme di persone, un insieme di unici, un insieme di discepoli e discepole, senza i quali il Vangelo non può essere detto nel tempo e nella storia di oggi che noi abitiamo. Farò quattro passaggi. passaggi, il primo e il terzo sono piuttosto brevi, il secondo e il quarto ci chiederanno qualche indugio di più. Il primo passaggio è questo. come già richiamato da Antonella, il Papa Francesco ci ha regalato la terza enciclica che, come dice lui nella introduzione, sia per l'ispirazione come anche per la tematica, si pone in continuità con la laudato sì. Fratelli tutti. Il titolo poteva essere più brillante, però poi nel testo mi pare di aver visto abbastanza costantemente l'associazione di fratelli e sorelle. Ecco, però la cosa che mi premeva qui sottolineare è una cosa che è nata da una certa delusione, da un certo disappunto da parte mia e poi dopo invece si è rivelata una cosa che personalmente mi chiederà, mi chiede, mi chiederà una riflessione, un approfondimento. Perché se laudato sì ci richiamava la dimensione della creazione, fratelli tutti ci richiama una parentela che è data dal fatto che siamo umani e abitiamo la stessa, la medesima casa. Questa cosa all'inizio ho detto vabbè, insomma, forse avevamo più bisogno di un indugio sulla fraternità e la sororità dentro la Chiesa. Questa fratellanza universale, questa sorellanza universale sono temi già cari, per esempio, all'illuminismo di Kant, che parla già di un mondo cosmopolita, di una universalità di intenti, di ragione, di valori. Ecco, però, è come se Papa Francesco costantemente, per arrivare ai temi interni, sentisse di dover partire sempre dall'esterno. per arrivare a puntualizzare alcune questioni che riguardano e che riguardano molto da vicino l'esperienza cristiana ecclesiale, quindi la sua forma, una forma che lui dice va riformata, cambiata. Ecco, per arrivare a proporre una forma comprensibile, immaginabile, desiderabile e praticabile alla Chiesa, Papa Francesco partisse sempre da fuori, da ciò che è più grande della Chiesa, da ciò che è prima della Chiesa, da ciò che va oltre la Chiesa. Cioè qui non si tratta più soltanto di intendere, no? Come dire, noi abbiamo un patrimonio, lo dobbiamo donare al mondo. No, no, c'è un patrimonio nel mondo che noi, insieme a tutti gli altri, dobbiamo prima capire e apprezzare e poi dobbiamo dirci tra di noi, cristiani e cristiane, come questo patrimonio comune che c'è, è già dato nella storia ed è dato a tutti, può interpellarci e può addirittura indicarci delle possibili e auspicabili cambiamenti di forma, cioè delle riforme. Ecco, potremmo dire così, se è vero, io ho avuto questa impressione, poi l'enciclica merita una lettura più meditata, più approfondita, vedremo poi nelle prossime settimane o mesi che cosa maturerà di questo. Però se è vera questa impressione, questa intuizione, vuol dire che il contesto storico attuale, spesso in negativo, ma qualche volta anche in positivo, ci riconsegna una verità profonda e caratterizzante del cristianesimo, che è appunto la fratellanza e la sorellanza. E forse, addirittura, questa non è una verità profonda del cristianesimo, ma è la verità profonda del cristianesimo. Se è vero, come alcuni hanno osservato, che di tante cose che appartengono all'esperienza cristiana, anche altri parlano, la misericordia non è specifica, un'attenzione specifica del cristianesimo. L'unicità di Dio non è un elemento specifico del cristianesimo. Avere dei luoghi di culto non è specifico del cristianesimo. Chiamarsi fin dall'inizio fratelli e sorelle e fare addirittura della universalità di questa fraternità e sororità il motivo della rottura con l'ebraismo, questo mi sembra invece che sì, sia proprio specificamente cristiano. Naturalmente, per quanto riguarda l'Islam, onestamente non lo so. Non so se c'è, se c'è, se è uso, no, presso i musulmani chiamarsi fratelli e sorelle. Presso gli ebrei questo uso so che è attestato, non è frequente, non è diffuso, ma è attestato. Tra i cristiani invece è tipico, tanto che fino ad oggi la lettura dell'Epistola durante le celebrazioni è introdotta dalla parola fratelli. Ma di più, è specifico non tanto il fatto che tra di noi è chiara, o dovrebbe essere chiara, questa parentela in Dio che chiamiamo fraternità e sororità, ma che questa fraternità è universale. Cioè, ogni essere umano è mio fratello, è mia sorella. Ogni essere umano, ovunque sia, da chiunque sia nato, a qualsiasi cultura o tradizione religiosa religiosa o politica appartenga. Questo, naturalmente, non smette anche ogni tanto di dispiacersi, perché è veramente una rottura pensare che anche quello, anche quella sono mio fratello e mia sorella. Però è così. Però è così. E sembra, appunto, che sia irrinunciabile questa cosa appena svilire la verità profonda della rivelazione di Gesù e cioè del suo Vangelo. Ecco, vorrei far vedere allora adesso, ritornando al filo narrativo del Vangelo di Marco, alcuni elementi, non è anche qui come le altre volte, io do alcuni spunti che mi rendo conto che andrebbero ripresi, approfonditi, ben altrimenti. quindi, va bene, ma insomma, secondo passaggio, ritorniamo al Vangelo di Marco e vediamo queste tre rivelazioni che sono insieme tre rotture che annunciano, vogliono annunciare, di fatto cominciano a insediare nella storia un mondo nuovo. Un mondo nuovo. La prima rivelazione, rottura, è di tipo teologico, cioè riguarda Dio, riguarda il suo volto, riguarda il modo in cui gli uomini e le donne lo guardano, lo sentono, lo vivono. E, a mio parere, Marco lo rivela subito nel primo capitolo nell'episodio del battesimo di Gesù e delle sue tentazioni nel deserto. Vi leggo il testo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. e subito lo spirito lo sospinse, lo gettò fuori nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Allora, qui la domanda, il testo dice tante cose, ma quello che mi preme è interrogare questo episodio di Gesù, un episodio avvertito nella tradizione evangelica come imbarazzante. Tant'è che da Marco a Matteo a Luca a Giovanni ci sono delle variazioni che cercano in qualche modo di venire a capo di uno scandalo. Che cosa ci faceva Gesù insieme ai peccatori e soprattutto che cosa ci azzecca il fatto che si sia fatto battezzare? perché il battesimo che Giovanni predicava era un battesimo di conversione e di purificazione. Gesù secondo noi, secondo un certo modo di intendere il figlio di Dio, ecco, non aveva bisogno né dell'una né dell'altra cosa. Perché Gesù è lì? E perché proprio lì il padre fa sentire la sua voce? Sono le uniche, è l'unica volta insieme a Marco IX durante la trasfigurazione che il padre parla due punti aperte le virgolette quindi è un passaggio importante. Del padre, dell'abbà, di Gesù si parla sempre nel Vangelo ma il padre non parla quasi mai, non interviene quasi mai, non interviene a interrompere o a orientare il dibattito dei suoi figli e delle sue figlie a proposito di lui. lascia che sia Gesù a parlare, cioè lascia che sia un figlio a parlare del padre. Lui non interviene quasi mai, le uniche due volte in cui interviene attira l'attenzione, rimanda l'attenzione non su di sé, padre, ma sul figlio. Una volta qui al battesimo si rivolge direttamente a Gesù, quell'altra volta al capitolo 9 nella trasfigurazione si rivolgerà ai discepoli di Gesù dicendo questo è il figlio ascoltatelo, ascoltatelo. Quindi il padre, diciamo così, dà il suo assenso all'opera e alla parola di questo figlio. E peccato che qui Gesù non ha detto ancora una parola. Fino a questo momento Gesù nel Vangelo di Marco non ha parlato. Quindi non può essere un assenso dato al fatto che Gesù abbia detto bene, abbia bene detto. E quanto all'agire non è che ha fatto tanto. Finora Gesù è passivo. L'unica azione, decisione che ha fatto è stata quella di lasciare Nazareth e di andare presso il Giordano dove ha sentito che Giovanni sta battezzando e poi si è messo in fila e si è lasciato battezzare. Allora a che cosa si rivolge si riferisce questa parola del padre che dice ecco tu sei proprio il figlio amato cioè il figlio che è riuscito. Tu sei proprio il figlio. Tu sei proprio un figlio. Che vuol dire davanti a un figlio riuscito io sono riuscito come padre io mi ritrovo come padre perché tu sei il figlio. Tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento. Beh qualcuno ha interpretato durante la storia così certo qui il padre ci sta rivelando che il figlio è l'incarnazione della seconda persona della Trinità e che quindi lui gli vuole bene per forza no è roba sua no in realtà narrativamente questa espressione questa rivelazione che il padre fa di avere un figlio amato è legata strettamente alla situazione cioè Gesù è in fila con i peccatori il padre lo vede là dove il figlio deve essere il figlio ha scelto e si è incarnato e la prima cosa che ha fatto meritevole di memoria secondo il Vangelo di Marco non è stata quella di andare in un assemblea di giusti non è stata quella di andare al tempio non è stata ma di andare in riva a un fiume dove c'è una fila di gente che si sente in peccato e che quindi vuole riconciliarsi con Dio Gesù è lì dove deve essere cioè lì dove c'è un'umanità dolente un'umanità sofferente un'umanità bisognosa di perdono di redenzione e dove la gente fa la fila la fila per avere come dire la consolazione di essere ascoltata di intraprendere di intraprendere almeno un nuovo tentativo un nuovo modo di vivere di vivere e subito lo spirito quindi il padre dice così e lo spirito non parla ma lo prende e lo spinge nel deserto per fare per stare 40 giorni tentato da Satana 40 giorni 40 anni nel deserto 40 giorni chiusi nell'arca il diluvio 40 diventa il tempo della conversione il tempo il tempo della conoscenza di sé di Dio di quello che è da cambiare di quello che è da cioè Gesù rimane 40 giorni tentato da Satana cioè fa fino in fondo e in maniera diciamo full immersion l'esperienza di appartenere alla umanità peccatrice di nuovo tuttavia Gesù è il nuovo Adamo ci avverte Marco perché sta con le bestie selvatiche sapete che dopo il diluvio dice Dio a Noè e le bestie avranno paura degli uomini oppure mangeranno gli uomini state attenti ci sarà un pericolo tra l'uomo e la bestia non ci sarà più la pace non c'è più la pace bene qui dice che sì invece sì stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano quegli angeli che impediscono da Adamo e Deva il ritorno all'Eden qui invece sono pronti a servire Gesù appunto è il nuovo Adamo Gesù è il nuovo Adamo Gesù è colui che porta la pace nel mondo che porta la pace tra l'uomo e le bestie che porta la pace o meglio il contatto tra il cielo e la terra gli angeli e tuttavia porta tutto questo nel cuore dell'umanità peccatrice non in qualche eremo sopraelevato non in qualche vetta spirituale o o santa ovunque si possa collocare o trovare ecco questo mi sembrava il primo il primo grande sfondamento quello teologico cioè Dio se stiamo a questo testo dobbiamo ammettere che Dio non è Dio padre e quindi suo figlio e quindi lo spirito santo non si interessano non fanno e soprattutto non stanno dove noi penseremmo che fosse il loro posto ecco perché mai ci immagineremmo anche se la scrittura di Israele aveva già detto cioè il rovetto ardente stava in mezzo a un pascolo quindi dove Mosè stava pascolando le pecore tra l'altro se le pecore di allora non so sono come quelle di oggi le pecore mentre mentre mangiano anche cagano cioè quindi dire vabbè ma se Dio deve proprio trovare posto in questa terra in mezzo alle pecore su un pascolo non è meglio un posto puro cioè pulito non è meglio un posto connotato un tempio una pietra no qualche segnale che lì è il luogo di Dio no infatti il segnale è un rovetto ardente ma Mosè è talmente poco significativo dal punto di vista religioso che Mosè si avvicina curioso per vedere cos'è sta roba no è la voce che lo avverte che la terra su cui ha posato i piedi è santa ma la terra è santa non perché è santa ma perché Dio si rende presente lì quindi Dio santifica qualsiasi luogo dove si degna e si compiace di rendersi presente e cioè dove in un deserto in mezzo alle tentazioni in un gruppo di persone consapevoli di essere lontane da lui e anzi di essere abitate da un certo male da una certa cattiveria eccetera ecco questo mi sembra la prima il primo grande sfondamento ma subito dopo Marco racconta così dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino bisognerebbe forse tradurre meglio si è avvicinato cioè è qui è qui convertitevi e credete nel Vangelo l'appello è quello ancora alla conversione come già era di Giovanni però Gesù non lo fa nel deserto lo fa in Galilea e lo farà ci dirà poi il testo passando di villaggio in villaggio non mettendosi in un deserto e dicendo se volete venite no va lui va lui dove la gente sta e dove la gente vive ma soprattutto a differenza di Giovanni non c'è convertitevi altrimenti vedrete ma qui dice al contrario Dio vi fa questo dono si rende presente in mezzo a voi come non è mai successo prima per questo è possibile convertirsi e credere e subito immediatamente dopo aver sintetizzato così la prima primissima predicazione di Gesù Marco racconta la chiamata dei primi discepoli passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea fratello di Simone mentre gettavano le reti in mare erano infatti pescatori e Gesù disse loro venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini e subito lasciarono le reti e lo seguirono andando un poco oltre vide Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni il suo fratello mentre anch'essi nella barca riparavano le reti e subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui ora che cosa c'è di che colpisce in questo brano che abbiamo letto beh c'è secondo me la seconda rivelazione quindi la seconda rottura questa volta non tanto non soltanto se volete teologica ma relazionale e sociale cioè Gesù sente il bisogno fin da subito fin dall'inizio della sua predicazione di non essere solo non vuole star da sola non vuole farla da sola sta da solo sta roba ha bisogno sente la necessità di essere di far corpo di far corpo con altri beh perché e perché questo ha a che fare con la predicazione è il regno di Dio che si è avvicinato e ma che cos'è il regno di Dio il regno di Dio è il regno del padre quel personaggio che è comparso al battesimo di Gesù e che ha detto figlio bello stai lì proprio dove devi essere e perché sta lì perché lì ci sono tutti gli altri figli quelli perduti quelli perduti allora la novità è questa che fin da subito l'annuncio del Vangelo è associato alla fraternità e alla sororità non si può annunciare il Vangelo se non a partire o addirittura senza essere poi continuamente accompagnati da un'esperienza di fraternità il seme di novità che è il regno di Dio si incarna in relazioni che sono chiamate col nome della parentela più profonda che ci possa essere perché fratelli e sorelle sono coloro che riconoscono di avere la medesima origine di essere nati dagli stessi genitori o da uno stesso genitore fratelli e sorelle naturalmente però questa cosa irrompe dentro una realtà dove invece le parentele sono disegnate diversamente e infatti crea un certo scompiglio cioè che cosa fa qui Gesù porta via dei figli a un'impresa a conduzione familiare beh una la prima impresa quella di Pietro di Simone di Andrea la decapita perché sono loro i titolari quindi l'attività si ferma la seconda impresa siccome c'è ancora il padre alla fine si vede decurtata così lasciarono il padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui non credo che il padre Zebedeo fosse felice ecco non credo non so se è questo il motivo per cui poi vengono chiamati Zebedei i figli ma non solo i figli Zebedei ma non lo so però capite cioè Gesù il suo annuncio del regno l'esigenza di una comunità di un rinnovamento delle relazioni crea un conflitto nelle famiglie crea un conflitto nella società crea un conflitto nell'economia sottrae delle persone all'autorità del patriarca e questa è la terza rivelazione e o rottura la rottura la rivelazione che il patriarcato non è volontà di Dio che Dio padre non è un patriarca non è un padre padrone e che quindi la comunità cristiana mi pare lo citavamo anche la volta scorsa la comunità cristiana si disegna come un luogo di relazioni fraterne delle quali Gesù dice così alla fine proprio l'ultimo versetto il 35 del capitolo terzo chi fa la volontà di Dio costui per me per me Gesù è fratello sorella e madre fratello sorella e madre la censura dei padri è voluta non è soltanto perché la famiglia che è andata che è andata a rivendicare il possesso del suo di Gesù che vogliono portarselo a casa con la forza a Nazare riportarselo a Nazare perché si vergognano di quello che Gesù sta facendo del casino che sta mettendo in piedi non è soltanto perché c'erano i suoi fratelli dice i suoi cugini insomma i suoi parenti e la madre e allora lui per stare alla situazione dice no no è proprio è proprio una un'assenza voluta voluta la comunità di Gesù non prevede padri la comunità di Gesù prevede fratelli sorelle e madri sì perché è una comunità che genera che deve continuare a generare ma ma che genera per impulso per ispirazione o aspirazione dello Spirito Santo mandato dal Padre mandato dal Padre fecondati da Dio generiamo certo ma generiamo come genera una madre non come genera un padre e questo tra l'altro fa capire una cosa che poi che è un po' come dire un buco un buco nero nei Vangeli soprattutto nei Vangeli sinotici anche se Luca il Vangelo di Luca è il meno il meno è più attento su questo però insomma tutti e tre i Vangeli Marco e Matteo in particolare non hanno molta attenzione alla sequela femminile di Gesù e uno dice oh beh ha chiamato dei discepoli ha voluto una comunità ma sono solo fratelli sono solo uomini no qui siamo solo al capitolo terzo e dice già fratelli sorelle e madri dove le figure femminili sono due su tre e dove è già scandaloso parlare di donne che fanno la volontà di Dio non era proprio previsto nella cultura nella religione ebraica del tempo alle donne non era chiesto di fare la volontà di Dio era chiesto di fare la volontà del marito era al marito agli uomini che veniva chiesto di osservare i comandamenti no seguire la Torah eccetera è chiaro? quindi qui c'è già una uno sfondamento che è che è epocale che è drammatico che è per le orecchie del tempo inascoltabile e talmente inascoltabile per le orecchie del tempo che anche l'evangelista Marco come l'evangelista Matteo fanno fatica a fare posto alle donne nella sequela di Gesù Luca ricorderà al capitolo ottavo all'inizio che c'era un gruppo di donne che seguiva Gesù coi suoi e quindi erano dei suoi anche loro e poi soprattutto Luca si ricorderà di fare nei primi due capitoli questa grandiosa attenzione spazio a Maria la figura della madre il Vangelo che invece proprio fin dall'inizio e poi fino alla fine fa uno spazio straordinario e sempre positivo alle figure femminili è quello di Giovanni è quello di Giovanni però anche Marco e Matteo arrivati a raccontare la passione non possono più tacere un dato storico e cioè che durante la passione le uniche che sono state vicine a Gesù sulla croce nella sepoltura e poi le prime a ritrovare il risorto a incontrare il risorto sono state le donne e lì a Marco e a Matteo scappa detto che queste erano lì che guardavano da lontano tutto quello che succedeva a Gesù loro che lo seguivano fin dalla Galilea e usa proprio il verbo tecnico della sequela e dice che questa sequela avviene fin dalla Galilea allora uno si chiede Marco ma perché non ce l'hai ricordato prima scusa perché non ce l'hai ricordato prima perché neanche il Vangelo la novità del Vangelo non ci sta neanche dentro la testa e dentro il cuore degli evangelisti cioè è più grande anche di Marco di Matteo di Luca e di Giovanni per cui insieme alla rivelazione della novità di Gesù gli Evangeli rivelano i limiti degli evangelisti segnati dalla loro cultura dal loro tempo dalle loro fatiche anche dalle loro meschinerie qualche volta per esempio il risentimento che Matteo nutre per gli ebrei in modo particolare per i farisei è terrificante segno evidentissimo che lui probabilmente era di loro e che questi gli avevano fatto qualche dispetto allora quando poteva parlare male di questi si sfogava come un animale proprio ecco la sta legge del capitolo 23 ci si resta si resta allibiti no? Scribi e farisei ipocriti sette volte glielo dici c'è una roba bestiale ma questo era per dire che questo è per dire che anche anche la fraternità che prende avvio dalla predicazione e dalle parole dei gesti di Gesù e che poi si ritrova intorno all'esperienza del risorto e si rilancia è una fraternità assegnata da 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 fatiche da limiti anche vistosi anche vistosi e tuttavia nonostante questo gli evangelisti non possono non dire e non dire e non ripetere che la sorellanza e la fratellanza sono necessarie per instaurare per come dire costituire nella storia e nel mondo un luogo di testimonianze di manifestazione di rivelazione del regno di Dio senza non si può senza non si può e d'altra parte siccome però germi di fratellanza e di sorellanza già sono presenti nella storia laddove vengono incontrati no debbono essere sostenuti anche se non sono dei nostri anche se non sono dei nostri e qualche volta come succede oggi almeno se è vero quello che dicevo prima di Papa Francesco e qualche volta addirittura sono proprio gli altri che non sono dei nostri a ricordarci quanto è prezioso il dono che avremmo dovuto custodire ben altrimenti della fratellanza e della sorellanza terzo passaggio al capitolo sesto lo chiamo così continuare l'incarnazione annunciare l'umanità in Gesù al capitolo sesto Marco ci ricorda che Gesù invia i suoi discepoli a due a due e li manda ad annunciare il regno di Dio e a guarire le malattie a scacciare gli spiriti impuri fa cioè fa fare meglio loro una prova di missione di missione e va bene lasciamola lì un attimo dice perché Gesù fa questa cosa è perché sta addestrando i suoi collaboratori giusto ecco come si dice dei preti i laici le laiche sono i collaboratori le collaboratrici dei preti no 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 Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che la missione che lui ha intrapreso e fin dall'inizio con loro non li ha chiamati perché fossero istruiti li ha chiamati per far corpo e che questa missione quando lui sarà ucciso e risusciterà la dovranno continuare loro ci siamo Gesù senza un corpo che continui la sua missione non può continuare la sua missione dice ma no come Gesù è figlio di Dio può fare quello che vuole sì ho capito ma certo forse non lo so non so se può fare quello che vuole ma insomma mi pare che l'amore obblighi anche a dei legami a delle obbedienze quindi dire che Dio siccome Dio può fare quello che vuole mi sembra una sciocchezza onestamente ma va bene ma mettiamo pure ma Gesù non vuole fare continuamente dei miracoli Gesù non vuole rivelarsi come Superman e non vuole soprattutto fare lui quello che dovremmo fare noi fare lui al nostro posto Gesù non prende il nostro posto come il padre non prende il posto dei figli e i figli guai a loro se prendono il posto del padre così fa Gesù con noi e continuerà sempre a fare così cioè lui non ha bisogno di collaboratori meno che mai di esecutori lui ha bisogno di persone che si assumano la responsabilità della missione evangelica dice adesso tocca a voi io non vi lascio da soli vi mando lo spirito santo aiutatevi con la parola di Dio anche i sacramenti male non fanno e va bene però dovete fare voi dovete fare voi e questo è evidente di nuovo quando al capitolo 16 Marco racconta l'incontro tra le donne e la tomba vuota e questo giovane vestito di bianco che a un certo punto dice loro così non abbiate paura voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso è risorto non è qui non è qui ecco il luogo dove l'avevano posto cioè guardatelo è vuoto ma andate dite ai suoi discepoli e a Pietro egli vi precede in Galilea là lo vedrete come vi ha detto voi se non glielo dite voi il risorto dovrà fare un miracolo vabbè farà un miracolo visto che poi queste scappano via dal sepolcro piene di spavento e di stupore non dissero niente a nessuno perché erano impaurite la tesi di Marco è questa nessuno è stato all'altezza al primo giro della sequela neanche le donne cheppure hanno fatto quasi tutto bene fino alla fine sono cadute proprio la mattina della domenica di Pasqua se non è sfiga quella lì però lì sono cadute anche loro non ce la fa nessuno nessuno è all'altezza e proprio per questo tutti ce la possono fare non ce la fa nessuno tutti possono farcela ricominciando cioè tornando in Galilea dove là lo vedrete ecco ma là lo vedrete nelle parole del giovane spesso sono state intese così le donne sono il porta messaggio ai discepoli maschi e a Pietro che loro i maschi devono andare in Galilea e là loro lo vedranno là lo vedrete perché parla come gli mette in bocca le parole oppure qui si dice visto che nel greco non ci sono le virgolette le dobbiamo decidere noi dobbiamo intendere così egli vi precede in Galilea questo è l'annuncio che le donne devono andare ai discepoli chiuse le virgolette là lo vedrete come vi ha detto come ha detto a loro come ha detto voi ci ceravate avete sentito e là lo vedrete tutti quanti maschi e femmine uomini e donne discepoli e discepoli discepoli e discepoli beh va bene insomma questo per dire per dire che il corpo di Gesù è un corpo di cui ha bisogno nella storia perché il Vangelo che è iniziato prima di lui come avevamo visto la volta scorsa in Isaia continui dopo di lui e continui dopo di lui con noi con i noi che siamo qui e ora in ogni momento della storia ma questo corpo ha bisogno di tutti uomini e donne questo corpo ha bisogno di uomini e donne responsabili questo corpo per essere corpo cioè coeso un organismo deve riconoscersi tra le sue parti come un corpo di parenti la cui parentela è più forte più profonda di quella del sangue e che è parentela di fratello e sorella perciò la fraternità sempre e ovunque sarà la buona notizia di un Dio diverso che è padre di tutti di un Dio diverso perché non è invece il Dio solito che ognuno predica che deve sempre escludere qualcuno per fare un regalo a qualcun altro di relazioni diverse di un potere che è servizio eccetera eccetera termino scusate la concisione anche la vorrei concludere con una icona che secondo me è straordinaria da questo punto di vista che troviamo nei primi versetti del capitolo 15 di Giovanni quando nei discorsi della cena Gesù a un certo punto parla della vite dell'agricoltore o del vignaiolo e dei tralci e dice così io sono la vite vera e il padre mio è l'agricoltore o il vignaiolo ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato rimanete in me restate attaccati a me e io in voi come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite così anche voi se non rimanete in me io sono la vite voi i tralci chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca poi lo raccolgono lo gettano nel fuoco e lo bruciano se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete vi sarà dato in questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli come il padre ha amato me anch'io ho amato voi rimanete nel mio amore questo poi più sotto dice questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi allora che cosa beh qui tante cose ma qual è la cosa che mi preme sottolineare sono due la prima è il frutto di che cosa si tratta il frutto è l'amore reciproco un amore attenzione qui Giovanni ha superato anche la doppia forma del comandamento cioè amerai il Dio con tutto te stesso e il prossimo tuo come te stesso no no per Giovanni l'amore di Dio amare Dio è amare gli altri punto Gesù non dice come io vi ho amato voi amate me e anche gli altri dice amatevi tra di voi come avete visto come avete imparato da me amatevi tra di voi al padre non interessa che tu gli vuoi bere gli dai i bacini gli mandi le letterine no o i pensierini gli interessa che tu ti preoccupi del fratello della sorella questo gli interessa questo è il comando quindi un comando osservando il quale si porta frutto e il frutto cos'è? la fraternità la sororità non c'è altro frutto previsto fratelli e sorelle vuol dire appunto considerare gli altri come parenti stretti cioè considerare la vita degli altri come qualcosa che mi riguarda come qualcosa di cui io non posso non farmi carico di cui non posso dire non mi interessa sono affari suoi lo dirà nella nella sua prima lettera chi dice di amare Dio che non vede e odia il suo prossimo un mentitore amate piuttosto il fratello che vedete allora potrete dire di amare anche il Dio che non vedete quindi il frutto è questo ma la condizione per portare questo frutto dice Gesù è di fare i tralci e i tralci portano il frutto se stanno attaccati alla vite Gesù e se dietro a tutto questo c'è il padre che ha predisposto la vite a potato eccetera e noi di solito leggiamo così in maniera discendente il padre la vite i tralci il frutto beh ma proviamo a leggerlo al contrario e dire e chiederci ma un vignaiolo senza una vite che cos'è? che vuol dire un padre senza figli che cos'è? niente non è un padre un vignaiolo senza una vite non è un vignaiolo non dice qui che il padre fa l'industriale del mobile e poi ha investito un po' dei suoi soldi in una vite non so in una vigna in Toscana e per hobby fa il vino non è l'hobby del padre del vignaiolo la vite è la sua vita è il suo lavoro è la sua opera senza la vite cioè senza il figlio e i figli il padre non è niente perché non è padre ma una vite se non hai tralci che portano frutto non è niente Gesù senza di noi non è niente Gesù senza il padre non è niente ma senza di noi non è niente allora poi è vero che noi senza Gesù e senza Gesù che ci rimanda ci riporta al padre siamo niente ma è vero anche il contrario anche Dio anche il padre il figlio senza di noi sono niente stanno lì beati nella loro trinità ma capite qui l'operazione che Giovanni ha compreso a fondo la rivelazione di Gesù l'incarnazione meglio di Gesù fin dal prologo è che l'umanità è entrata nella trinità divina e che ormai non si può parlare più della trinità di Dio senza parlare anche di noi non si può più c'è un legame c'è un compromesso una promessa reciproca che rende impossibile definire Dio senza i suoi e i suoi senza Dio non è possibile non è possibile il padre è il padre quindi ha bisogno di figli ha bisogno del figlio e dei figli e i figli per essere figli devono essere figli di qualcuno cioè di un padre e devono avere l'esempio di un fratello maggiore che ci ha insegnato e ci insegna come si vive questo ecco è ovvio che da qui da queste parole oltre ad approfondire ancora meglio sia il dato biblico sia quello più se volete antropologico eccetera bisognerebbe comunque cominciare a fare un discorso che dia un po' di concretezza a questa cosa sotto il profilo antropologico per esempio la fratellanza e la sorellanza come si possono pensare nelle loro luci e nelle loro ombre ovviamente ma anche venendo più strettamente alla dimensione ecclesiale com'è da pensare la fratellanza e la sorellanza per esempio alla luce della prima lettera ai Corinzi capitoli 12 13 e 14 e anche qui luci ed ombre se ricordate un anno e mezzo fa quel convegno che abbiamo fatto come De Capoli sul clericalismo il tema era questo una chiesa clericale può essere mai una chiesa fraterna una chiesa di fratelli e sorelle no no la risposta è semplicemente no quindi è ancora la chiesa di Gesù sì perché Gesù le resta fedele no perché tradisce il Vangelo non è che si possono fare tanti no un pochino quasi no o sì o no o sì o no perciò tutto ciò che in qualche modo si oppone impedisce rallenta devia svisa no svuota questa dimensione della fratellanza e della sorellanza no è qualcosa che semplicemente perverte la chiesa la snatura la snatura e poi certo la terza di grande dimensione è quella sociale e politica che l'enciclica del Papa ha messo a tema anche qui con le sue luci e con le sue ombre quindi chiaro no questo discorso è soltanto un po' iniziale però è un discorso che oggi se si vuol parlare di forma o di nuova forma o di riforma della chiesa deve essere messo doverosamente cioè non è non è possibile che uno parli di riforma della chiesa partendo dal fatto che ci sono meno preti non è possibile partire e dire ma la riforma della chiesa partiamo da come usiamo i soldi ma il problema è per capire come usare i soldi in un modo o in un altro ci vuole un criterio e quello è il criterio il criterio è quello del fratello sorella cioè per che cosa li vuoi usare questi soldi se non per questa roba qua no dice no no pensavamo di investirli per fare non so delle grandi anfiteatri sì ma per che cosa oppure per non so capite mi spiego mi spiego penso di sì ecco il patriarcato Gesù stesso ha detto no col patriarcato non c'è fraternità non è proprio non è possibile capito nel senso che quella che nasce c'è il patriarco o i patriarchi no i capi poi dopo quelli che stanno sotto che sono i figli diciamo così o i servi eh ma è tutto falsato perché i servi tra di loro si odiano perché sono dentro in un sistema in un tritacarne di potere e di aggressione di sopraffazione reciproca se il criterio è la forza se il criterio è l'autorità e non l'amore beh è tutta un'altra cosa punto che è quello che vediamo continuamente accadere nella storia è inutile scomodare la novità del Vangelo per giustificare quello che succede da sempre che può speriamo di no ma che continuiamo a vedere accadere perciò ecco credo che questo sia uno dei grandi temi dei grandi temi eh dei grandi temi vuol dire che insomma no d'altra parte quello che anche ha detto no che Papa Francesco è mio fratello mio fratello e io sono suo fratello cioè io dovrei incontrare Papa Francesco come incontro un fratello e lui dovrebbe incontrare me come incontro un fratello a voi vi pare che accada o meno non ancora neanche con lui quindi aspettiamo tempi migliori ma nel frattempo ecco qua e là bisognerebbe che in qualche modo no noi facessimo spazio anche nelle nostre vite nelle nostre relazioni a questo insediarsi del regno di Dio nella storia magari anche magari senza magari guardando e imparando da molti che fanno questa cosa pur non essendo nella comunione ecclesiastica pur essendo lontani qualche volta molto distanti persino ostili alla Chiesa eppure tu li vedi che in certi momenti capaci di solidarietà di attenzioni di delicatezze eccetera come mai fanno così ecco che è la cosa che almeno stando alla lettera di Ognetto dicevano anticamente dei cristiani ma come mai fanno così si vogliono bene no si scambiano si fanno i prestiti no senza interesse si aiutano eccetera eppure non sono parenti non sono parenti no del resto appunto quello che ci hanno detto i nostri noni i nostri padri adesso ce lo dice uno che per età potrebbe essere un fratello o addirittura un figlio no e dice prima casa tua prima casa tua e dopo gli altri quando saremo a posto a casa poi dopo se resta tempo per carità però prima a casa tua prima i tuoi prima gli italiani non è che il messaggio cambia no resta la costante prima quelli definiti dal suolo e dal sangue quelli sono i parenti la parentela larga fuori di lì però non c'è parentela chiaro quella è la parentela larga poi c'è la parentela più ristretta quelli che parlano lo stesso dialetto e poi c'è la tua parentela quella lì è sacra per i figli per la moglie per un fratello di sangue allora va bene si fa si fa anche anche tanto ma per gli altri se ne avanza vediamo vediamo grazie a tutti Grazie a tutti